Allora, possiamo fare un bilancio di questa stagione? So che è andata molto bene. Ma per il Napoli o per Gino Riveccio? Per Gino Riveccio? E non per il Napoli? Ma sì, è una buona stagione, è il terzo anno che giro con lo spettacolo Gli e Napoli, che è stata la terza stagione consecutiva, è un spettacolo che mi ha dato grandi soddisfazioni. C'è ancora le ultime repliche, peraltro proprio qua in zona, prossimo sabato a Teano, e poi chiuderemo sempre in provincia. Insomma, direi che è andata molto bene, un spettacolo che appunto è stata una fotografia del rapporto che ho con la mia città, con la mia gente, e l'anno prossimo sto preparando questa commedia tratta da una commedia americana, di Clivexton, Twist, che è stata portata in teatro 20 anni fa, e spero di essere anche a Napoli la prossima stagione. Siamo ancora in una fase che si sta decidendo adesso i cartelloni, comunque, speriamo bene. A proposito del Napoli invece? A proposito del Napoli e degli amici nostri, no, parlare del Napoli direi che fino a questo momento non ci possiamo lamentare. La sfortuna di aver beccato il Real Madrid, non abbiamo il solito vedere che c'è la Juve che becca il Porto, però noi puntiamo al secondo posto e niente, noi rigori non ne abbiamo, tempi di recupero di solito sono 3 minuti, 4 minuti, per cui quello che facciamo e vinciamo è tutto legittimo. Ci può bozzare un attimo Sarre? Ma sai, adesso in questo momento vi chiedi una cosa, non è facile, anche perché siamo qui alla fiera del mobile di Riardo, c'è il bronzo di Riace e invece Ciro Perrella è il bronzo di Riardo, dai!